Dottore, spesso purtroppo quando si parla di sanità nel meridione si parla sempre di mala sanità, invece questa volta, in questi due giorni, le innovazioni, le peculiarità, le eccellenze della sanità arrivano proprio dalla Puglia. Esattamente, in questi due giorni abbiamo già presentato e presenteremo delle esperienze che sono tecnologiche, che sono gestionali, che sono assistenziali, che hanno già messo piede in Regione Puglia, nelle realtà sanitarie, come esperienze pilota e che adesso si vogliono vestire di esperienze di sistema, sia per l'intera Regione, ma anche, e qui è il senso del forum mediterraneo per la sanità, anche per il resto del mezzogiorno. Del mezzogiorno e anche in altre Regioni extraitaliane, con le quali già collaboriamo, per esempio, tramite l'Agenzia, con l'Unione Europea, con le quali condividiamo e scambiamo esperienze in termini di prese in carico della cronicità, modelli di telemedicina e via di seguito. Quindi questa è la migliore occasione per dimostrare che la Puglia non ha da chiedere denaro, anche se il denaro non guasta mai, non ha da chiedere attenzione, anche se l'attenzione non guasta mai, ma in realtà la direzione è un'altra, ossia proponiamo soluzioni, proponiamo altre modalità e altre vie per continuare a fare salute e sociale, ancora testardamente, in maniera sostenibile e relativamente gratuita per tutti. Dottore, quanto è importante il settore della sanità privata nel pubblico? Un partner, quello della sanità privata, è un ruolo molto importante. Sin da quando personalmente mi è capitato di stendere il piano di riordino ospedaliero, il privato l'abbiamo sempre visto come un partner importante e complementare, quindi mai concorrenziale, ma un completamento, in alcuni casi anche strategico e provvidenziale, in aree sulle quali il settore pubblico non riesce a dare le risposte che servono. E così deve essere. L'ottica rimane sempre quella di sistema. Se poi la proprietà o la committenza sia pubblica o privata, questo è relativo. Quello che conta è il disagio o il bisogno indistinto del paziente e del cittadino.